Musica Dal ristorante La Zattera di Pescara il saluto di Paolo Minucci, bentrovati con il nostro programma che oggi torna ad ospitare piacevolmente il primo cittadino del capoluogo adriatico Luigi Albore Mascia in una struttura aperta tutti i giorni a pranzo e a cena con l'ottima cucina marinara. Qui il buon pesce fresco del mare adriatico e di scena tutti i giorni un personale altamente preparato e qualificato sarà sempre a vostra completa disposizione per offrirvi davvero il meglio della ristorazione marinara. Allora con il sindaco vorremmo subito brindare a questo nostro incontro, è sempre un piacere. In un locale che è particolarmente preferito dal sindaco, un piccolo debole per questo locale La Zattera di Pescara? Credo che ognuno abbia magari un posto, un luogo preferito in cui intrattenersi con gli amici, ma credo che questo sia anche un ottimo luogo di rappresentanza perché a Pescara direi comunque sulla nostra costa c'è un'offerta strepitosa di pesce, di ristoranti. Tutti locali a certi livelli però il crudo della Zattera è qualcosa di importante. È antipatico fare torto agli altri però magari nella vita si ha una preferenza e da anni questo locale per me è un punto di riferimento. Poi con i crudi, giusto? Soprattutto per chi ama i crudi e credo che questo locale sia stato apprezzato anche da istituzioni importanti. Io ricordo prima della creazione di Futura Libertà un pranzo con l'onorevole Fini, presidente della Camera già a quei tempi, che nonostante sia piuttosto parsimonioso nel mangiare, quindi nel cibarsi a pranzo, invece apprezzò moltissimo le specialità di questo ristorante. Si recò anche in cucina, salutò tutto il personale della Zattera, la Zattera, la Gianfranco Fini. Il personale certamente ha lasciato un buon ricordo. Poi dopo quel giorno e anche per alcune vicende che accaddero proprio in quella giornata particolari che ebbero un risalto di carattere nazionale, iniziò la strada di Fli. Sotto questo aspetto insomma il ristorante in cui siamo ha fatto registrare avvenimenti importanti che hanno poi precorso dei tempi anche altrettanto importanti. Ovviamente, saluti al titolare Giancarlo e a tutto lo staff, ricordo sempre a vostra disposizione, tutti i giorni a pranzo e a cena, il ristorante La Zattera sul lungomare sud del capoluogo adriatico. Allora un inizio in agrodolce, come si suol dire, però veniamo a noi perché continuano diverse polemiche, continuano ad alimentare diverse polemiche. Ecco, che momento vive politicamente, oggi come oggi, il primo cittadino di Pescara? Un momento personale molto buono, sono anche a livello esistenziale molto sereno, molto tranquillo e dopo due anni e mezzo di amministrazione si acquisisce anche una consapevolezza, nonostante i tanti anni di attività politica svolti, perché io quest'anno sono al 14esimo anno all'interno del comune di Pescara, essendo stato eletto per la prima volta nel 1998 e avendo svolto tutte le cariche, avendo effettuato quello che ai tempi dei romani si chiamava cursus honorum e che mi ha visto protagonista in varie fasi, sino ad arrivare ad essere il primo cittadino. Quindi ha superato il tagliato. Assolutamente un momento personale molto buono, direi anche un momento amministrativo molto buono, perché proprio in questi giorni sono arrivate al traguardo finalmente opere strategiche importanti, altre sono partite e arriveranno al traguardo da qui a pochi mesi, quindi io presumo che il cammino fino alla scadenza del mandato elettorale, ricordiamolo, nella primavera-estate del 2014, lo vedo pieno di soddisfazioni, e cioè di opere importanti, che è quello che mi preme più di ogni altra cosa, regalare ai cittadini, compatibilmente con i tempi che viviamo e con le difficoltà che tutte le amministrazioni hanno. Le esiguità di bilancio. Guardiamo il sindaco Luciani di Francavilla, che è stato eletto poco più di 8-9 mesi fa, ha già delle difficoltà, ma in tutti i comuni, di centro-destra e di centro-sinistra, oggi si vivono momenti molto delicati. Nonostante questo la mia amministrazione comunque addirittura si è rafforzata, anche grazie ad una bella e solida intesa con l'Udc, che non si è registrata in altri comuni, ma che invece il comune di Pescara garantisce una serena governabilità. Ecco, intanto arrivano questi crudi, fantastici crudi, i mitici crudi del ristorante La Zattara di cui dicevamo prima. Abbiamo iniziato a parlare di notte liete, di tutto quello che sta facendo la giunta guidata da Luigi Alboremascia, però sembrano esserci delle difficoltà di natura politica, perché si legge sui giornali di queste diatribe, sia con il gruppo facente capo all'assessore regionale Carlo Maci, che per quanto concerne i suoi rapporti con il coordinatore provinciale del PDL, Lorenzo Sospiri. Cosa c'è di vero? È tutta una montatura o c'è qualche… Io non cado in provocazione, anche perché… Intanto io le servo questi crudi. Il mondo del giornalismo di Pescara da tanti anni, essendo stato giornalista diversi anni fa, credo oltre 20 anni fa e quindi capisco anche il modo di fare giornalismo, io non faccio mai considerazioni per quanto riguarda gli alleati, ci possono essere anche momenti di difficoltà o comunque momenti in cui occorrono confronti, qualche volta occorre anche qualche scontro, occorre qualche chiarimento, grazie, però io non esprimo mai giudizi su chi comunque collabora con me nel governo della città, ho un grande senso di appartenenza, ci sono state delle dimissioni credo di personaggi comunque non di primissimo piano all'interno del comitato cittadino del PDL, però non credo che queste dimissioni siano derivate da una questione di carattere amministrativo, Armando Foschi è un galantuomo che fa il capogruppo del PDL che è stato eletto da poco e che evidentemente ha voluto un momento di verifica interno al gruppo consigliare che è arrivato puntualmente e che ha dato piena fiducia ad una persona che si impegna quotidianamente fino allo spasimo per la città di Pescara, questo uomo è Armando Foschi, una persona di grande esperienza politica che adesso sta ricoprendo questo ruolo per lui nuovo, ma che credo possa ricoprire nel migliore dei modi e continuerà a ricoprire fino alla fine del mandato, di avere il gruppo più numeroso in consiglio comunale, cioè il gruppo del PDL, un gruppo di 14 o 15 consiglieri che comunque lo impegna moltissimo e lo porta anche a confrontarsi con le varie anime che ci possono essere all'interno di un gruppo consigliare. E su Vittorio Mincione che cosa ci dice? Vittorio Mincione l'ho scoperto dirigente di partito, anzi dirigente di un movimento perché Pescara Futura presenta una sorta di anomalia positiva al comune di Pescara in quanto gruppo consigliare numeroso e determinante che esprime anche il vice sindaco e altri due assessori che hanno delle grandi responsabilità all'interno della mia giunta, ma nello stesso tempo Pescara Futura è anche parte integrante del PDL, quindi Vittorio Mincione che io ho conosciuto giornalista fin dai tempi della Prima Repubblica, conosco le sue vicende professionali di grande attaccamento al comune di Pescara, ma sempre nella veste di giornalista l'ho scoperto in questi anni dirigente di partito, credo che possa fare bene anche questo, anche io dei trascorsi da giornalista e oggi sono il sindaco di Pescara, credo che Mincione tornerà sui suoi passi o comunque il suo apporto e il suo contributo mi sembra importante, tutti nella vita possono vivere un momento così in cui ci possa essere la necessità di un chiarimento o in se stesso o da parte di altri. Lei in un certo senso sta facendo il diplomatico, mentre l'hai sorto ad assaggiare questi crudi che lei conosce molto bene qui al ristorante La Zattera di Pescara. Qualcuno dice che non sono diplomatico, anzi guardi, quotidianamente pago lo scotto di essere una persona molto diretta che può anche permettersi di essere molto diretta sia per il ruolo sia per il carattere, qualcuno dice che ho un carattere non facile, io credo sinceramente di avere un carattere trasparente, lineare, aperto di quelli che consentono alle persone di dormire la notte sonni tranquillissimi. Però in questo istante sta glissando la domanda perché io penso che lei in questo momento abbia dei problemi di natura politica, soprattutto con il gruppo di Pescara Futura. No, io ho un ottimo rapporto con la compagine di Giunta, riesco a occuparmi poco perché le fatiche quotidiane sono tante e la mia giornata di lavoro dura 13-14 ore al giorno, vorrei tanto anche avere la possibilità di percorrere le strade di Pescara, ma le questioni amministrative, quelle che mi occupano maggiormente, non quelle politiche che mi occupano meno, sono tantissime, però ho una compagine di Giunta straordinaria, che è quella con cui mi rapporto ogni giorno, che è legata a me da un rapporto umano e di stima formidabile, anch'io sono legato ai miei assessori e ho tre assessori del gruppo di Pescara Futura, o meglio, espressione, è la migliore espressione anche dal punto di vista elettorale per due terzi, perché l'assessore Palucci è una donna molto in gamba, di nomina fresca, con i quali mi rapporto e lavoro tutti i giorni, quindi come faccio ad avere un rapporto con Pescara Futura? Eppure anche il Fido Fiorilli, Berardino Fiorilli, il suo vice sindaco, aveva rischiato di presentare le dimissioni. Sì, credo che il vice sindaco abbia seguito delle indicazioni, come giusto che sia, da parte del suo gruppo e io quel giorno ricevetti le dimissioni da parte di Fiorilli a seguito della mancata nomina vicario del Consiglio Comunale, del vice presidente vicario, della consigliera Caroli, che io peraltro ho votato sia come vice presidente sia come vicaria e quindi quelle dimissioni erano un atto politico che io però ho ritenuto di cestinare immediatamente non le ho mai protocollate, con un atto di forza e di decisionismo che mi contraddistingue. Bene caro sindaco Luigi Albore Mascia, continui pure ad assaggiare questi antipassi e poi seguiranno anche i primi e i secondi piatti, qui si mangia davvero molto bene alla zattera di Pescara. Si continua a parlare degli sperperi di questa giunta, ad iniziare dai fondi elargiti per Pescara, città europea dello sport e per proseguire anche con l'incarico a Giordano Bruno Guerri di cui ci siamo già occupati in un precedente appuntamento dell'appetito viene parlando, sono critiche strumentali, lei come le definisce? Quando torna a casa ci ripensa? Guardi, da qualche mese noi abbiamo una questione che affrontiamo quotidianamente, vede io sono così diretto, ovviamente non offendo nessuno, però registro sicuramente il comportamento da parte di un giornale, di un quotidiano generalista che si chiama Il Centro, che vende tante copie nella regione Abruzzo e credo che sia acquistato anche da molti cittadini che votano centrodestra, sostengono il centrodestra e che devono sapere che dietro una testata come quella del Centro c'è un gruppo forte, un gruppo che si chiama Editoriale L'Espresso, che non è altro a livello nazionale che Repubblica, sostanzialmente un gruppo forte che è orientato sicuramente da un punto di vista editoriale verso il centrosinistra, la Repubblica a livello nazionale ha letteralmente demolito politicamente l'ex Presidente del Consiglio Berlusconi e certamente non ha avuto atteggiamenti accondiscendenti oppure obiettivi del tutto nei confronti del centrodestra. A livello locale noi abbiamo questa testata, fa un'informazione molto completa, ma dal punto di vista dell'orientamento politico, cosa assolutamente lecita, per cui non incorro certamente in considerazioni che abbiano rilevanza penale, a un orientamento sicuramente editoriale, come è normale che ci sia una linea editoriale, marcatamente a sinistra. Questo orientamento che fino a qualche tempo fa con direttori come Vicinanza e come Roberto Marino era un orientamento secondo me meno marcato, cioè più teso all'obiettività nell'ottica di un giornale cosiddetto generalista, cioè acquistato da simpatizzanti di centrosinistra e da simpatizzanti di centrodestra. Da qualche mese con l'avvento del nuovo direttore, cosa assolutamente lecita, però è bene dirlo e io non ho timore a dirlo, questo giornale ha intrapreso una campagna mediatica forte, forte, dal mio punto di vista, di ostilità nei confronti del Presidente Chiodi, nei confronti del direttore generale dell'ASL da Mario, nei confronti del sindaco di Pescara, cioè i tre personaggi del centrodestra più autorevoli e più potenti d'Abruzzo, il Presidente della Regione, il direttore dell'ASL più grande d'Abruzzo, il sindaco della città più importante d'Abruzzo. Ecco che da lì è nata anche una campagna mediatica che riguarda il Presidente Chiodi, che è riguardato il manager da Mario e che riguarda questi presunti, come dice lei, li definisce sperperi da parte dell'amministrazione al Boremaci. Io ritengo che aver puntato sull'immagine di una città che deve travalicare i confini regionali, che deve farsi conoscere a livello nazionale e a livello internazionale, con un marchio come quello di Città Europea dello Sport, peraltro perseguito anche dall'amministrazione di centrosinistra in Italia, Torino sta prodigandosi per ottenere questo riconoscimento, Firenze governata dall'ottimo Renzi ha ottenuto questo riconoscimento dopo Pescara. Io credo che questa azione che noi abbiamo portato in avanti per tre anni consecutivi, investendo certo in immagine della città di Pescara abbia prodotto un ritorno, sì ma in tre anni, 110 mila Euro che vuole dire 30 mila Euro l'anno, che su un bilancio di 110 milioni di Euro, quello del comune di Pescara, 110 milioni di Euro, credo che sia una bazzecola, ma tutto questo per cercare di riportare in questa città immagine, di portare turismo, di portare interessi, cosa che abbiamo fatto, è venuta la nazionale di calcio due volte la nazionale maggiore a Pescara, cosa che avveniva oltre ogni 15 anni nella città di Pescara. Abbiamo avuto la manifestazione Ironman che ha riempito gli alberghi di Pescara, cioè quei 30 mila Euro l'anno hanno prodotto un'economia che è 10, 15, 100 volte superiore a quell'investimento. Poi è ovvio che se si vuole creare giornalisticamente una montatura intorno a un problema con una minoranza che dovrebbe avere un pochino più pudore rispetto a sei anni del passato di amministrazione d'Alfonso, minoranza formata da quegli stessi componenti di quell'amministrazione che non mi pare fosse molto parsimoniosa. Voglio ricordare quanti soldi sono stati spesi per inaugurare l'Aurum, credo oltre 200 mila Euro per due giorni di baccanali per inaugurare una struttura fantastica, ma comunque 200 mila Euro dei cittadini pescaresi. E allora ecco qua che si crea questa commissione, cassa di risonanza data dall'informazione mediatica, opposizione che ovviamente crea il caso e qui sembra chissà quale questa amministrazione quale sperpero possa fare. Questa è un'amministrazione pulita, trasparente, di persone per bene. Forse la città di Pescara dovrebbe essere un po' più orgogliosa di avere un'amministrazione così, perché oggi si cerca l'onestà negli amministratori, prima ancora che le capacità, questa amministrazione ha onestà e capacità. Orgogliosi anche del contratto offerto a Giordano Bruno Guerri? Certo, perché quest'anno abbiamo ritenuto, a parte che non abbiamo ancora incaricato nessun consulente per cui la procedura è ancora elitare. Quest'anno abbiamo ritenuto di dover dimezzare il compenso che l'anno scorso abbiamo potuto invece garantire. Certamente quando si abbassa il compenso è chiaro che il novero dei pretendenti o degli aspiranti quando si crea un rapporto di consulenza ad altissimo livello come quello che noi vogliamo instaurare, rende più difficile anche il contatto con il meglio sulla piazza, quindi noi l'abbiamo dimezzato. Adesso stiamo facendo una procedura istruttoria, ma è una prerogativa del Sindaco, non è un concorso, tengo a precisarlo, ma è una prerogativa del Sindaco scegliere la persona che abbia i requisiti migliori e maggiori per poter rappresentare la città di Pescara in quel lavoro di immagine della città di Pescara con l'obiettivo di portare Pescara e l'Abruzzo al di fuori dei confini regionali, è l'ambizione che ho avuto fin dal mio insediamento, ritengo che Pescara sia un tesoro, l'Abruzzo abbia un giacimento di risorse culturali, storiche, gastronomiche, chi più ne ha più ne mette eccezionali, il grande limite è che fuori non siamo conosciuti abbastanza, allora farci conoscere fuori vuol dire portare ricchezza a Pescara e in Abruzzo. Sindaco, ma sembra che lei sia l'unico a sostenere questo matrimonio con Giordano Bruno Guerri, che anche all'interno della sua giunta non siano tutti d'accordo. Io guardi, proprio oggi ho avuto, nella mia giunta sono tutti assolutamente d'accordo, io tutto quello che faccio lo faccio condividendo qualunque cosa con la mia giunta, quando parlo della mia giunta parlo del vice sindaco e parlo di tutti gli assessori. Se qualche dirigente politico magari ha qualcosa da dire di diverso, mi deve spiegare perché magari questo rapporto con la consulenza d'immagine è andato bene per due anni, quando l'assessore alla cultura era ovviamente appartenente a Pescara Futura e oggi non va bene più, ma io non scendo in polemiche, vado avanti per la mia strada e ritengo che un buon consulente d'immagine per la città di Pescara sia più che mai opportuno, proprio per cogliere quell'obiettivo, quello di avere dei passaggi RAI, di avere eventi internazionali, di avere fatti eclatanti a Pescara, ci sono già stati e quindi devo pensare che non potranno che incrementarsi perché ci sono già stati a Pescara. Bene, cambiando pagina, sindaco, è un caso quello di Fontanelle, di questo quartiere che reclama ogni giorno maggiore attenzione da parte delle istituzioni, da parte delle autorità, si susseguono le conferenze stampa, c'è ancora tanto terrore, tanta paura in quel quartiere o qualcuno cerca anche qui di strumentalizzare il problema? Credo che tutti siano in buona fede, sia in buona fede la cittadinanza che risiede lì, che vive il disagio di avere poche e identificate famiglie che creano turbativa. Il 95% delle famiglie che vive in via caduti per servizio, perché Fontanelle è un quartiere molto ampio, tra l'altro voglio anche regalare un riferimento storico, Pescara, la città di Pescara, questo lo testimoniano i reperti che ci sono presso una realtà civica bellissima che è il Museo delle Genti d'Abruzzo. Pescara è nata nel quartiere di Fontanelle, i primi reperti, quelli che risalgono addirittura ad epoche preistoriche, sono stati rinvenuti proprio nel quartiere di Fontanelle, ancora prima che, quello che la tradizione ci dice, la piazza forte di Pescara, Ostia Terni, quello che noi chiamiamo centro storico oggi. Via caduti per servizio è composta per il 95% da famiglie per bene, persone che lavorano, che mi abbracciano ogni volta che vado lì, perché sono stato a decine di assemblee a Fontanelle, alla fiaccolata organizzata dall'Associazione Codici, che ringrazio perché Domenico Pettinari svolge un eccellente lavoro in quella zona, tutti sono in buona fede, anche Don Max che invoca sempre l'intervento delle istituzioni, però dovrebbe magari rivolgere la sua attenzione verso altre istituzioni, perché il Comune di Pescara credo che abbia moltiplicato i suoi sforzi, anzi mi sono sentito anche rimproverare da qualche altro cittadino di avere un debole per via caduti per servizio e di essere fin troppo presente in via caduti per servizio, noi lì abbiamo ripreso i lavori di una palestra che era stata letteralmente abbandonata, abbiamo aperto una sede civica dove c'è l'associazione di Insieme per Fontanelle, dove c'è l'associazione Codici, abbiamo dato incomodato addirittura quell'automobile al Presidente dell'Associazione, all'amico Nello Raspa, abbiamo dato incomodato in uso gratuito un'automobile utilitaria del Comune di Pescara, proprio per dimostrare che la sua auto che era stata incendiata veniva prontamente sostituita dalle istituzioni, abbiamo potenziato l'illuminazione, stiamo per installare le telecamere, abbiamo operato gli sfratti, abbiamo messo i portoni blindati, addirittura riempiremo gli spazi sottostanti i condomini, credo davvero che il lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che continueremo a fare per via caduti per servizio è un lavoro inimitabile per certi versi e quindi credo che siamo sulla buona strada. Ma lei ci andrebbe a dormire, ci dormirebbe senza aver paura? Qualunque cittadino di Fontanelle mi dovesse invitare ad andare a trascorrere una settimana in via caduti per servizio, io andrei a vivere in via caduti per servizio, la paura è la peggior cosa, la paura è la peggior cosa e chi è malintenzionato se percepisce, un po' come i mammiferi, come gli animali feroci, se percepiscono le scariche di adrenalina, di chi ha paura l'animale diventa aggressivo, allo stesso modo la criminalità diventa aggressiva se percepisce il timore, se vede la forza, se vede la presenza, come quella dimostrata con quella fiaccolata straordinaria che noi abbiamo organizzato, anzi che codice ha organizzato e alla quale noi abbiamo preso parte a testa alta, allora la criminalità ha paura, li abbiamo identificati, la Questura sta facendo un lavoro mirabile, purtroppo l'ordinamento giudiziario non sempre dà gli strumenti più efficaci per poter bandire, debellare completamente e destirpare la criminalità, ma ci stiamo lavorando. Bene, abbiamo il mare adriatico davanti ai nostri occhi, qui è davvero un panorama suggestivo all'interno del ristorante La Zattera di Pescara dove stiamo proponendo questo nostro appuntamento dell'appetito, viene parlando in compagnia del sindaco della città Luigi Albore Mascia, mi viene subito in mente il problema del dragaggio del porto, caro sindaco, un'altra stagione purtroppo è saltata, io mi riferisco ai collegamenti con l'altra parte del mare perché purtroppo la SNAV non tornerà. Oddio, stiamo cercando veramente di assicurare un collegamento light, diciamo così, non tanto per la frequenza quanto per il tipo di imbarcazione, quindi stiamo curando dei rapporti indirettamente, lo stiamo facendo attraverso la Camera di Commercio, quindi attraverso gli agenti marittimi, attraverso l'amico Bruno Santori, la Sammar, per poter vedere se con la SNAV, con la quale abbiamo un ottimo rapporto, peraltro perché più volte abbiamo incontrato la dottoressa Vago che rappresenta la SNAV nel centro Italia e quindi in Abruzzo. Io però non vorrei interromperla, però in un precedente appuntamento del nostro programma l'ex Presidente della Camera di Commercio di Pescara, Ezio Ardizzi, ha detto che sia lei che il Presidente della provincia di Pescara siete dei bravi ragazzi, però dovreste avere la forza di battere i pugni sul tavolo nelle sedi opportune perché si è perso davvero troppo tempo e questo troppo tempo perso ricade sulla città di Pescara e tutto l'interno. Ardizzi è un personaggio autorevole di questa città e vuole molto bene a questa città e quindi secondo me quando parla così è animato da uno spirito emotivo più che giustificato soprattutto dalla sua storia e dal suo attaccamento alla città di Pescara, anche se lui abita a Montesilvano per la verità. Io credo che il fatto di sbattere i pugni sui tavoli appartenga un po' a una cultura locale che francamente oggi credo non possa avere più risultati, perché battere i pugni sul tavolo non vuol dire che con la forza o con la violenza verbale si possano ottenere le cose, le cose si ottengono quando sono giuste, quando sono legittime, quando ci sono le condizioni di legge, quando ci sono le risorse, quando ci sono insomma una serie di elementi concorrenti per poter arrivare ad un risultato. Colgo occasione, ma non per avere un atteggiamento pilatesco che non mi appartiene, ma per precisare quanto è necessario precisare che al di là della responsabilità morale di essere sindaco di questa città e quindi direttamente interessato, io non ho una sola competenza amministrativa sulla vicenda Dragaggio. Non l'ho avuta, non l'ho mai avuta all'inizio, non ce l'ho tuttora, oggi c'è tra l'altro un commissario straordinario che è stato nominato con un provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che si è adoperato in tutti i modi, io ho visto e condiviso anche nello sguardo e nei segni sul viso di Guerino Testa tutto il rammarico da Pescaresi insieme alla marineria, insieme a tutti coloro che stanno subendo questa vicenda e tutto il rammarico, la tristezza, qualche volta anche lo sconforto di fronte all'impotenza, perché ovviamente ci sono aspetti tecnici che sono sopra la nostra testa e che non possono essere governati. Io l'ho vissuto questo pur non avendo la possibilità di porre in essere una delibera, una determina, un atto amministrativo, perché non c'è una sola competenza comunale su questa vicenda, questo è bene dirlo, non per sfuggire alle responsabilità, io non sfungo alle responsabilità, sono il Sindaco di questa città e sono in campo a fianco al Presidente Testa e a tutti gli altri soggetti per riuscire ad arrivare a quell'obiettivo che da due anni perseguiamo, ma questa è una vicenda paradossale in cui c'è stato il Ministero delle Infrastrutture, il Proveditorato alle Opere Pubbliche, in cui c'è un'inchiesta penale, in cui sembrava essere arrivato tutto finalmente al punto determinante, ci sono le associazioni ambientaliste, c'è stato di tutto di più, oggi di fatto noi non riusciamo a effettuare questo dragaggio, io credo che però lavorando e non sbattendo i pugni sui tavoli, ma facendosi sentire nei dovuti modi e nelle dovute sedi arriveremo a questo risultato, però ci vuole una presa di coscienza che vada anche al di là dei confini della città, occorrono anche i parlamentari, occorrono anche degli interventi, non lasciando solo il Sindaco di Pescara o il Presidente Testo o il Presidente della Camera di Commercio che si è molto prodigato su questa vicenda, ma facendo un lavoro corale su cui noi purtroppo in Abruzzo non sempre riusciamo a svolgere in migliore dei modi la nostra azione. Bene, Sindaco, sempre seduti comodamente a tavola all'interno del ristorante La Zattera di Pescara, ci avviciniamo proprio in addirittura d'arrivo, lei nei giorni scorsi ha sbandierato la sua volontà di ricandidarsi anche per la prossima candidatura, è stato anche qui criticato perché hanno detto in molti che ha preso questo atteggiamento ha iniziato a parlare un po' troppo presto, non è così? Ma guardi, peraltro l'avevo detto anche un anno fa, quindi se è troppo presto adesso era prestissimo un anno fa, io sono il Sindaco di questa città, sono nella storia di Pescara il Sindaco che è stato eletto con il maggior consenso, con il 54,5%, Carlo Pace la prima volta fu eletto al ballottaggio, la seconda volta vinse il primo turno, D'Alfonso la prima volta andò al ballottaggio con Carlo Masci, la seconda volta vinse proprio nei miei confronti per 232 voti, non andò al ballottaggio, io ebbi una percentuale molto bassa del 26%, però eravamo 11 candidati sindaci e se ci fosse stato il ballottaggio chissà la storia poteva anche cambiare, anche per lo stesso predecessore Luciano D'Alfonso. Però è stato stoppato dai vertici del partito? Non credo di essere stato stoppato anche perché le vicende che riguardano Pescara che è un capoluogo di provincia e oggi è una città guida che rappresenta un'intera regione, verranno sicuramente decise a livello nazionale, io credo di essere molto considerato a livello nazionale, al di là della considerazione che credo di riscuotere a livello locale e penso che sia opportuno che un Sindaco anche per mettere dei paletti, anche per ottenere da parte di coloro che lavorano insieme a quel Sindaco il maggior impegno possibile, preannunci la propria ricandidatura per altri 5 anni di governo di questa città, anche perché c'è la ferma volontà di lavorare, di incrementare, di portare a compimento progetti che una pubblica amministrazione magari non sempre consente di portare a compimento in 5 anni in un mandato, perché ovviamente i tempi della pubblica amministrazione sono lunghi, io credo che molti risultati li otterremo da qui fino alla fine di questo mandato e questo sarà il miglior biglietto da visita, la migliore propaganda elettorale per ottenere un ampio consenso, anche perché lo dico e lo ridico, non mi pare che dall'altra parte, almeno negli scenari attuali, perché potrebbero anche cambiare da qui a qualche mese, non mi pare che dall'altra parte oggi ci siano candidati accreditatissimi, non mi pare che ci sia coesione, non mi pare di avere un antagonista oggi, me lo dica lei, a chi dice che è in ritardo sul suo programma elettorale, su quel programma che aveva presentato… Faremo una verifica, la faremo a breve, prenderemo quel programma e vedrà che l'80% di quelle cose o sono in cantiero o sono state portate a compimento, sotto questo punto di vista come sotto tutti gli altri punti di vista io vivo serenamente. Deciso e tenace come sempre il sindaco di Pescara Luigi Alboremas, ospite graditissimo del nostro programma, come trascorrerà la Santa Pasqua e la Pasquetta? Guardi Andro, mi concederò tre giorni di riposo in montagna, la mia compagna, anzi la parola compagna non mi piace, la mia fidanzata ha una piccola proprietà in quel di Pesco Costanzo, quindi qui in Abruzzo, un posto incantevole e quindi ne approfitterò con lei e con la sua famiglia per trascorrere tre giorni di assoluto riposo, soprattutto godendo di quei panorami e di quegli scenari che sono tipici delle nostre montagne e del nostro Abruzzo che è una regione eccezionale. Dopodiché si tornerà al lavoro? Dopodiché si torna al lavoro più che mai perché ci sono le sessioni di bilancio da affrontare, abbiamo adottato il bilancio di previsione in giunta, adesso bisognerà andare in consiglio. Delle scadenze importanti, per il momento tanti auguri di buona Pasqua al Sindaco di Pescara, al Sindaco di Pescara Luigi Alboremascia, ospite gradito del nostro programma, l'appetito viene parlando che si è svolto all'interno del ristorante La Zattera sul lungomare sud di Pescara, un locale aperto tutti i giorni a pranzo e a cena con il meglio della ristorazione marinara. Grazie a voi per averci scelto da casa, l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni, ciao a tutti! In questo spot potremmo dichiarare il numero dei nostri clienti, potremmo vantarci dell'esperienza maturata nel nostro settore, potremmo giunare perché la nostra migliore pubblicità è il tuo passaparola, My Dream, l'unico vero franchising dell'oro usato da Bruzzo, trasparenza, multiterritorialità e lealtà, i fattori che ci differenziano, diamo il giusto peso ai valori, la vostra fiducia e la nostra forza, dal 2000 acquistiamo il tuo oro, www.retemydream.com Manamana 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 Manamana